buongiorno sure e buongiorno sure benvenuti in questo nuovo video spesa video sulla spesa o mentre io ora in palestra mio marito è andato a fare la spesa anti gross e ora vi faccio vedere cosa ha comprato arrivo iniziamo ha preso le carote è un chilo ma non c'è il prezzo poi due meloni gialli che io amo e gli acquagati così 5 euro poi dei limoni delle banane ai limoni i limoni costano due euro 2 euro le banane 188 tra l'altro sono anche tante poi ananas lana il prezzo così questa è la borsa via poi riprendiamo perché ha ricevuto una telefonata e si è bloccato il telefono kiwi del quale non c'è il prezzo comunque kiwi biologici poi del pane fatto così ora metto via questa roba e prendo l'altra borsa abbiamo un borsone pieno di roba allora ha preso questo succo del skipper zero zuccheri melograno è veramente cena pochissimi veramente mi lascio e faccio vedere scrispettate screenshotate si sa di poco perché sembra acqua aromatizzata però almeno non fa male poi lo stracchino per fare le piadine con la rucola e il prosciutto crudo poi le erbette due pasta sfoglia della buitoni delle arance spero che si veda poi mozzarella valenata senza conservanti naturale poi amorbidente mi sa che mi ha preso il Bernal perché non ha trovato il mio amorbidente preferito e questo è aromatherapy poi latte 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 scremato piccolino è carino il come si chiama non mi viene il nome un polpettone un polpettone che a mio figlio gli piace tanto questo qui ogni tanto io lo prendo poi abbiamo delle mele melinda si vede che ha fatto la borsa a un uomo eh non l'avrei mai fatta così tortellini da fare in brodo da fare in brodo poi salame prosciutto crudo bresaola altro prosciutto crudo di Parma Bologna o mortadella questa questa qui quella quella con pistacchio poi salmone salmone vediamo di dov'è affumicato poi crudo cotto sta salendo la pigna aspettate che metto via questa roba che ce n'è troppa rieccomi allora zucchine ti faccio vedere sempre il prezzo le zucchine e due pacchi di piadine questa è questa è vuota altra borsa spinaci yogurt yogurt riso basmati yogurt bianco a questo sempre yogurt ma deve essere uscito da qua se un altro è uscito rimettiamolo a posto poi tonno altro tonno Philadelphia like altro yogurt bianco altro yogurt bianco e due confezioni di grana già grattugiato e panna per cucinare basta basta la spesa è finita è tutto qui qui ah no aspetta ho dimenticato questo che avevo messo prima il purè si d'emergenza eh perché di solito lo faccio io con le patate fresche questa è un'emergenza che va sempre comodo avere in casa e niente questa è tutta la spesa fatta da mio marito e quindi se vi è piaciuto il video voglio mettermi in modo ma no non mettermi così se vi è piaciuto il video lasciatemi un like iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram e attivate la campanella spolliciate tantissimo mi raccomando se vi fa piacere condividete il video aiutatemi a far crescere il canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao